ok siamo buonasera a tutti benvenuti ciao iniziamo la conferenza stampa mangiante sky eccoci ok angelo una stagione lunghissima per tutte e due le squadre ha giocato 50 partito ufficiale la roma ne ha giocati 52 il il leicester con una differenza sostanziale avete iniziato tutti e due da metà agosto che da un po di tempo il leicester pensa solo al alla conference league lo si vede anche un po da dalla gestione dei cambi di di brenda rogers quindi arriveranno molto riposati rispetto agli impegni di campionato della roma ancora in inizia per l'europa al contrario di loro che peso può avere tutto questo io spero che nessuno spero che spero che nessuno veramente però l'analisi che tu hai fatto è ovvia io sono stato già di là la stessa situazione quando tu non ha nessuna possibilità in campionato di raggiungere i tuoi obiettivi e tu hai una competizione europea il focus diventa la competizione europea anche se per loro questa non la loro competizione europea perché la loro competizione europea è la europa league anche se per loro questa non è la competizione è un modo di poter arrivare prossima stagione e competizione europea e per questo è logico è logico quello che stanno facendo di riposare giocatori per giocare questa partita è logico noi non lo possiamo fare abbiamo campionato da giocare abbiamo possibilità in campionato di di raggiungere competizione europea non possiamo buttare fuori questa opportunità e dobbiamo giocare fino alla ultima per cercare di finire in posizione europea però domani spero che le cose questo non sia nessuno spero che l'aspetto emozionale possa mettere i miei in un stato di alma altissimo che possa aiutare la squadra a vincere la partita l'ho l'obbligida dai sport di qui buonasera murigno e tutto complimenti per il primo anno di matrimonio di primo anno di matrimonio lo scorso anno perché lo scorso anno oggi a questo ora la roma diede l'annuncio del suo arrivo quindi ok ok è sposato da mando complimenti poi volevo chiedere senta ma come si sostituisce un calciatore come mkhitaryan si sostituisce con un'alchimia di gioco o può esserci un calciatore che può fare quel tipo di gioco che lei ha a disposizione no noi non abbiamo un altro mkhitaryan ci sono delle squadre top dove praticamente tu hai due giocatori molto molto simili per ogni per ogni posizione sono queste squadre che possono fare il turnover perfetto e sono queste squadre che non soffrono quando qualche giocatore non può non può giocare noi non abbiamo un altro giocatore come come mkhitaryan questo è ovvio non c'è possibilità di fare lo stesso con con altri giocatori adesso possiamo farlo di un modo diverso possiamo fare di un modo diverso l'obiettivo non cambia l'obiettivo non cambia vogliamo andare in finale vogliamo lasciare tutto quello che che abbiamo non non mi stanco mai da ripetere che sono domani 14 partite di conference league siamo iniziati in turchia la ultima in in inghilterra senza fermarci giocando ogni giovedì dopo giocando domenica in campionato con tutte le conseguenze e le difficoltà però siamo qui siamo qui come squadra non c'è mkhitaryan ci sono altri e come squadra che che andiamo di domani a combattere grazie facciamo qualche collega inglese nazi daily mirror daily mirror hello jose um you obviously got a nice bottle of wine and your trip to england uh brendan rogers told the press today he'd be happy with a simple cup of tea uh back at your ground is is there any chance of you uh putting the kettle on for him yeah to be honest i i bought him a very nice gift but because he wants tea i keep the gift for me i give him tea that's no problem bryce the sun can you tell us what you think of brendan's achievement last year winning the fa cup for the first time in the club sister and breaking these grounds all the time i can answer you on brendan i can answer you on leicester what leicester is doing is fantastic of course what they did by winning the the premier league is amazing but after that the way the club grows at every level arriving now to one of the best training centers in uh in europe the club amazing congratulations to 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 all of them brendan doesn't surprise me um with liverpool people forget what he did with uh much much less resources than liverpool has now he did amazing and then uh the scottish history people forget because people doesn't fuck doesn't focus much on the scottish premier league but then to win the the cup with uh with leicester to win the even the community shield the stability in the club the way they play the recruitment the stability perfect fit leicester and and brendan very very good i just hope that uh that tomorrow is for us and not for them zucchelli la gazzetta dello sport mancano 6 1 2 3 4 5 ecco buonasera io volevo chiederle quali sono le sue emozioni domani ci sarà un olimpico pieno c'è un'attesa altissima quali sono le sue emozioni nel giocare una partita così importante in uno stadio pieno gli altri anni la roma quando è arrivata a questo punto la semifinal di ritorno era ormai una partita praticamente chiusa e quindi questo quali sono le sue emozioni anche rispetto ai tifosi che aspettano così tanto la partita di domani non c'è non c'è dubbio della empatia creata fra di noi noi squadra io giocatori noi con i tifosi non c'è dubbio siamo insieme in competizione da più o meno dieci mesi e con momenti più belli meno belli da ricordare da dimenticare siamo stato sempre insieme con grande empatia io ovviamente adesso arriviamo a un momento dove si gioca all'olimpico le due ultime partite della stagione giocheremo domani la ultima di conference e giocheremo prossima settimana la ultima di di serie a contro venezia e ovviamente chi chi sarebbe bello festeggiare questa empatia che la empatia è creata è stata creata il rimane al di là dei risultati però sarebbe bello e meritavamo tutti di finire bene queste due partite di dell'olimpico quello che dico ai ai tifosi è che noi ovviamente che giochiamo per noi però tanto per loro e che mi piacerebbe che loro domani giocano la partita con noi perché si può stare allo stadio come spettatore e si può stare allo stadio a giocare la partita se abbiamo 70 mila spettatori il significato è niente se abbiamo 70 mila che vogliono giocare la storia è una storia diversa e è questo che noi che noi chiediamo io i giocatori è questo che noi chiediamo alla gente non venire allo stadio a guardare la partita e venire allo stadio a giocare no please at the microphone for the tv to be honest to be champion with Leicester means more than three titles with Chelsea or with Liverpool or with Man United so you should be happy that you won that very 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 special title jokes apart of course he wants to win especially because he's the only way they can reach European competition next season so is obvious a club of Leicester dimension and history in the last decades of course they want to play Europe next next Europe next year and the only way they have to play Europe next year is by winning this competition so normal words from a guy that represents well what Leicester has been in the past decade but for you Joseph how hungry are you to win this competition it's the same every game it's the same every game I always say that there is only one match that I didn't win which is the next one the next one I didn't win so I want to win the next one always if the next one is a semi-final even more because of course the semi-final gives you the right to play a final if you are not sacked before the final but gives you the right to play the final so of course it's not just the next one is not just the next one is it's a special match and of course we want to win it was long long run for us a different run than Leicester because Leicester run was an Europa League run our run was confident since day one and to be honest the day one was very very difficult against Trabzons 4 so 14 matches later we have the chance to play the final and we must do anything that we can to play at the highest level that we can to deserve to be in the final come on Gary hi Joseph congratulations May the 4th 2021 it was announced you were going to be the new Roma head coach this feels to me like you're enjoying it like it's a project is that true I'm enjoying I'm enjoying very much I'm happy every day that I come to to training ground that I cannot that I cannot deny do I want more yes I want more do I want next season to be able to to think bigger yes I want to be able to think bigger but I knew I knew the project I knew the nature of it and I'm loving to share every day with my with my players with people in the club people wants to grow up players they want to grow up they want to grow up I'm with them I try to give everything I have and I I I love to to work in the club and I love to work with them I think the work is being so hard for for every one of us that I think we deserve to end the season with with something to to celebrate of course a trophy would be amazing of course to finish in a position that allow us to to play European competition next season is also a positive thing but we are giving everything we have every one of us so tomorrow is just one one big step I don't I don't uh forget I don't deny against a very very good team but we are a good team and can I just finally ask did you drink Brendan's wine yet and what gift did you get him that he's not now going to get he doesn't know what it is he just told that he wants tea 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 he wants tea you have tea I keep the gift for myself I keep lo monaco il romanista setto sette ne mancano tre no mancano tre? si lo monaco più due? si ecco ci sei ciao forse questa lester qualche difettuccio ce l'ha l'avrà studiato bene credo che anche il suo amico Antonio Conte l'abbia studiato bene perché visto com'è ha sbloccato il risultato ma non le faccio questa domanda tanto non mi risponderebbe le chiedo invece un'altra cosa sul sostituto di Mkhitaryan perché credo che al centrocampo ci sarebbero due chance le principali perlomeno e vivono sono giocatori diversi perché forse noi che capiamo un po' meno di calcio oliveira e cristante non sembra quasi una coppia perché hanno forse lo stesso passo un po' più compassato questa è una partita che uno si aspetta che dove l'intensità sia forte e ci sarebbe un giocatore come vere tu che questa intensità ce l'ha sempre avuta che ultimamente non ce l'ha mi chiedo al di là delle sue scelte che immagino non ci dirà che momento stanno vivendo sia oliveira sia avere tu per capire un po' meglio qualcosa di più anche noi insomma non c'è un giocatore per per giocare al posto di Mkhitaryan con le stesse caratteristiche questo non non lo abbiamo tu sai quello che noi che noi abbiamo e tu hai detto bene che sono giocatori diversi da da Mkhitaryan non c'è non c'è tanto da da fare però noi giochiamo come squadra cercheremo di essere squadra cercheremo sempre di di nascondere fra virgolette i problemi che che noi abbiamo che noi siamo una squadra perfetta cercheremo di esplorare si dice esplorare esplorare i piccoli problemi o piccole fragilità che il nostro fortissimo opponente sicuramente avrà però giocheremo come squadra e e sarà così Sergio Veretù uguale che tutti gli altri giocatori che abbiamo noi sono in condizione di dare di dare tutto quello che chiedono da dare domani è possibile è molto possibile vincere però solo se se tutti noi siamo al al massimo livello e sono assolutamente convinto che che Sergio Veretù e qualcun altro che che è anche opzione che ci vanno aiutare sicuramente grazie austini il tempo due no sì perfetto buonasera ciao volevo chiederle che partita ci dobbiamo aspettare tatticamente perché per esempio Brandon Rogers stamattina in Inghilterra ha detto la Roma sarà invitata a spingere di più attaccare di più dallo stadio forse è quello che spera Brandon Rogers probabilmente rispetto all'andata è sempre difficile di dire quello che che la partita sarà qualche volta tu vuoi una partita e ti esci una partita una partita diversa a me mi piacerebbe una partita come come la partita di Leicester dove lui Patrizio ha fatto una partita in 90 minuti questo significherebbe che non abbiamo dei grossi problemi questo sarebbe ovviamente importante per per noi il pubblico può aiutare ovviamente può aiutare si vuole giocare però noi come squadra i giocatori devono avere la maturità e la intelligenza di gioco per sapere gestirlo di un modo poco emozionale e di un modo più più razionale questo è importante per noi terminiamo con Dubaldo del Corriere dello Sport Buonasera Buonasera Lei è abituato a momenti come questo a finali a partite importantissime vinte ma il suo presidente la sua proprietà come si avvicina a questa sfida si è scambiato opinioni con il presidente come sta vivendo queste ore come vi siete scambiati idee su questa partita che vale tanto per Roma No non abbiamo cambiato nessuna idea penso che il presidente e i suoi figli mi conoscono già un po' chissà che prima della partita la mia vita sono io i miei assistenti i miei giocatori non mi piace condividere non mi piace stare con altre persone non mi piace neanche fare la conferenza stampa con voi sono qui perché sono obbligato a stare è così però anch'io conosco loro molto bene già conosco ovviamente loro è facile di capire che al di là dei innamorati del suo club e della gente che sono anche innamorati di calcio i genti innamorati di calcio e la gente che vive questi momenti con questa è un po' la natura del calcio è arrivare a momenti a momenti importanti e per questo vedo da loro parte rispetto rispetto per la nostra privacy come squadra diciamo così rispetto per la nostra concentrazione però allo stesso tempo posso capire che da loro parte esiste questa diversità nell'approccio sicuramente sono super felice di avere una semifinale a casa con lo stadio pieno con i tifosi è un momento di grande gioia di grande aspettativa e andiamo lì andiamo lì tutti insieme e se la nostra gente vuole giocare possono fare la differenza grazie 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 ben